Ieri il primo consiglio comunale di insediamento a Gioiosa Ionica dopo l'elezione a sindaco Di Luca ha ritorto e dopo l'apertura con il giuramento del sindaco si è proceduto all'elezione del presidente del consiglio comunale. E' stata eletta la consigliera Laura Crimeni a seguire le comunicazioni del sindaco sulla composizione della giunta comunale all'intera assemblea. Salvatore Fuda, sindaco uscente e consigliere metropolitano, è stato nominato vice sindaco, lo ricordiamo, è stato eletto con grandissimi consensi. Nella giunta sarà presente anche Loredana Calabro, Serena Palermo ed Enrico Tarsia. Per le deleghe il sindaco, redice da non buone condizioni di salute, provvederà nei prossimi giorni. Sia la minoranza che la maggioranza hanno auspicato un dialogo costruttivo nel corso della legislatura per il benessere della popolazione di Gioiosa, anche sotto l'ottica della crescita e del rafforzamento dell'unione dei comuni della Valle del Torbido. In questo senso, una prima richiesta di maggiore attenzione verso il commercio e le attività produttive è stata fatta dal consigliere di minoranza Domenico De Pino, che ricordiamo era candidato a sindaco.